Oltre alla produzione normale di aquiloni acrobatici e statici e per bambini, come per esempio queste losanghe disegnate da Nicoletta Costa, facciamo anche dei progetti particolari. Uno di questi progetti è l'Italian Air Gallery, dove abbiamo fatto 20 di questi aquiloni Edo, è un aquilone giapponese, ha anche una brigliatura molto particolare e poi abbiamo dato questi aquiloni a 20 pittori, artisti, li hanno dipinti e poi li abbiamo fatti volare.